buonasera a tutti benvenuti iniziamo questo incontro qui all m9 che è stato voluto per parlare del carnevale siamo in tempo di carnevale in effetti oggi sarebbe giovedì grasso e giovedì grasso nonostante queste mascherine che abbiamo ancora addosso un covite che gira ancora speriamo che giri per poco i venti di guerra che attraversano il mondo diciamo abbiamo pochi motivi per stare allegri ecco detta con molta serenità cerchiamo di darci un po di allegria quest'oggi se non festeggiando parlando di un tema che è piacevole che è un tema facile che è un tema che dovrebbe portarci gioia e divertimento e cerchiamo di farlo semplicemente ricordando alcuni dei carnevali della storia cittadina e ricordando in particolare il regista morizio scaparro al quale la biennale dedicato proprio in questi giorni una bella mostra che a giustini anche ricorda i suoi carnevali che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora vista vicino a me per parlare di questo tema c'è un parterre de roa a cominciare da paolo lughi che il direttore della comunicazione della biennale che vi ho appena citato un pezzo da novanta come gianni de luigi che è un registratore che è stato tra i protagonisti importanti della resurrezione del carnevale di venezia in fondo alla mia destra c'è un regista di un'altra generazione di una generazione diversa mattia berto che fa delle cose molto interessanti di cui poi parleremo e a fianco a fianco di de luigi a fianco di mattia berto c'è un'altra generazione ancora che racchiude tutte le generazioni perché lui è già anziano ma ancora l'animo del bambino e questo è molto bello perché lì come dire contempera tutte le età e professor luca golferà è scrittore attore regista e molte altre cose che non posso non voglio dirvi qui e soprattutto per il priore della compagnia dei calzi antichi un'associazione culturale storica venezia e anche dentro la storia del carnevale io introdurrò brevemente dicendovi alcune cose perché dovrei parlarvi in realtà di più di mille anni di storia a partire dal 1094 quando il doge vitale falieri mancanza di meglio da fare fece un edito con cui dichiarò il carnevale di venezia lo inventò sostanzialmente ed è il primo documento storico che dimostra la vita l'esistenza del carnevale che quella volta la serenissima ideò più di mille anni fa per far divertire il suo popolo naturalmente più che i turisti che che a volte non che c'era per far divertire il suo popolo e soprattutto la parte di popolo veneziano che soffriva di più era un po la vecchia regola romana del pane meto circenza bisogna ogni tanto dare al popolino da divertirsi probabilmente non pensava nemmeno lui sarebbe bello interrogarlo se avessimo la macchina del tempo se avesse mai pensato quella volta che il carnevale dal 1094 sarebbe arrivato al 2022 non credo che ci avrebbe assolutamente pensato e comunque potrei raccontarvi tutti i mille passa anni di carnevale lo farò la prossima volta e vi basti sapere che partito da da quell'anno lì il carnevale non si è più arrestato fino alla fine della caduta della repubblica serenissima 1797 persino l'ultimo anno l'anno della caduta la caduta è a maggio in febbraio si svolge l'ultimo carnevale della storia di venezia tre mesi prima della caduta della serenissima e nonostante che la serenissima sostanzialmente sapesse perché i venti di guerra anche lì c'erano già poi non fu guerra perché venezia come sapete si arrese senza combattere e quindi i carnevali arrivarono fino alla fine del settecento sempre con grande bellezza gran divertimento specialmente nel quattrocento nel cinquecento e nello stesso settecento dopodiché arrivarono i francesi piantarono un tristissimo albero della libertà in pietra san marco poi c'è detto la venezia che evidentemente non gli interessava gli austriaci i quali del carnevale interessava ancora meno e lo abolirono di fatto dopo dovete reinventare lo spritz per abbonarsi per asserenarsi per per sopprimere la malinconia che veniva fuori e curiosamente per duecento anni nessuno parla più di carnevale quindi siamo dal dall'inizio dell'ottocento alla fine del novecento o quasi degli anni settanta nessuno parla più di carnevale salvo i più intelligenti i bambini i bambini tenero sempre carnevale negli oratori nelle parrocchie nelle scuole nei campielli si vedevano di bambini vestiti da indiani da pirati i bambini ma era rimasta una cosa per bambini il carnevale gli adulti lo avevano totalmente dimenticato fino a che succede qualcosa e succede qualcosa di paradossale perché il carnevale rinasce per colpa o per merito delle brigate rosse sembra paradossale ma era così perché le brigate rosse e i loro accoliti proletari uniti comunisti organizzati compagnia cantante avevano creato vi ricordate siamo negli anni settanta un clima plumbio nel paese non uscivamo più di casa avevamo paura anche degli attentati del clima che c'era dei morti ammazzati per strada o gambizzati nel migliore degli ipoteri a fine anni settanta quando la stagione degli anni di piombo volge al tramonto naturalmente e anche per la reazione di un paese sia ben chiaro comincia a esplodere la voglia di uscire di casa di riuscire la sera come una volta di tornare al cinema teatro di ballare nelle piazze di riprendersi le città di notte e di sera ed in questo contesto di voglia di ripartire che rinasce il carnevale anche a venezia e come rinasce ve la faccio breve vi do solo di dei cenni che serviranno poi anche alla nostra non discussione al nostro ragionamento al nostro ricordo rinasce siamo a fine anni settanta 77 78 79 non c'è una data precisa la data precisa ufficiale è l'ottanta ma prima ci sono dei prodromi negli ultimi tre anni sostanzialmente degli anni settanta e cogliendo appunto questa voglia di ritornare e riprendersi le città sono ancora qui dei giovani perché le micce scattano sempre da lì sono gli studenti del liceo di belle arti a venezia non dell'accademia del liceo artistico scudate del liceo artistico di venezia i quali per la voglia di giocare non c'erano non facevano ancora costumi ma depredano le le case le loro case prendendo delle lenzuola strappando delle lenzuola dai cassetti e rubando in cucina delle uova e della farina con questo armamentario vanno per strade campielli della città nel centro storico e se le tirano addosso coperti dai lenzuola si le tirano addosso uova e farina fenomeno bizzarro perché finché lo facevano tra di loro nessun problema quando cominciano a farlo anche verso la gente che passava questo comincia a creare qualche problema qualche preoccupazione in città anche da parte di chi deve mantenere l'ordine pubblico come l'amministrazione comunale e si comincia a pensare che al di là di questi eccessi l'amministrazione comunale che non era guidata male in quegli anni poi lo dirò coglie che c'è questa voglia si è pure portata avanti un po male e decide di dare organizzazione a questo fenomeno spontaneo un atto spontaneo anche perché dietro l'input degli studenti del liceo artistico il carnevale prima ancora di diventare istituzionale prima ancora dell'arrivo del comune della biennale si muovono dietro gli ragazzi si muove quella che la comunità cittadina la città si muovono remiere associazioni culturali scuole grandi costumisti gente che si inventa fare le maschere artigiani si muove tutta una comunità di varie espressioni cittadine che hanno anche loro la voglia di fare carnevale per dire poi chiederò a luca col ferai un esempio molto interessante perché la compagnia della calza che è un'associazione culturale da molti anni in realtà nasce come comitato promotore del carnevale di venezia quando il carnevale ancora non esisteva ed era un'associazione di 25 famiglie veneziane tra cui netturbini operai impiegati marinai professori universitari gente di tutte le disparate branche della società che si mette assieme per tentare di rifare il carnevale questa spinta diventa potentissima con tutte queste associazioni il comune l'accoglie l'accoglie un po perché forse non poteva non cogliere perché era diventata molto forte questa spinta e comunque il sindaco era mario rigo e l'assessore che se ne occupava si chiamava mimmo greco loro colgono queste idee e dicono beh allora se ci sono questi fermenti che nascono dal basso dalla città perché non rifacciamo il grande carnevale di venezia e qui hanno un'idea geniale che altre amministrazioni poi magari non hanno avuto invece di dire o femoni altri stabiliscono che non sono in grado di farlo che non tocca loro il comune non fa spettacoli non è abilitato non ha le strutture negli uomini per farlo e decidono la prima mossa geniale chiamiamo chi se ne intende cioè chiamiamo chi fa cultura in città e chiamano la biennale la biennale aveva oltre al cinema aveva il teatro la danza e la musica tutto quello che serve per fare spettacolo anche il carnevale e anche in tempo di carnevale e questa la mossa vincente alla biennale coglie subito questa palla al balzo casualmente per caso per fortuna a guidarla c'era maurizio scaparro che era già un regista famoso e non aveva bisogno del carnevale di venezia per diventarlo è diventato di più era già un regista importante che faceva la sua stagione il suo festival del teatro come viene fatto adesso e scaparro ha due intuizioni geniali la prima quella di prendere il suo festival di teatro che tuttora si svolge in estate tra luglio agosto e lo sposta in periodo di carnevale questa è la prima mossa geniale lui poteva fare un carnevale no essendo non essendo un fitta palchi come poi ho persone improvvisate come poi è successo era un regista che aveva un'idea precisa e tra l'altro la cosa curiosa è che noi oggi ancora celebriamo scaparro parlavamo della mostra ne parleremo ne parlerà di luigi scaparro è il regista del carnevale veneziano più celebrato della storia il migliore probabilmente sicuramente il paradosso è che scaparro non amava affatto il carnevale non gli interessava assolutamente lo scrive lui stesso nella prefazione nel libro degli antichi lui era interessato moltissimo all'uso teatrale del carnevale che è cosa totalmente diversa difatti lui prende la città e la teatralizza non fa il carnevale porta il suo festival di teatro in tempo di carnevale e fa il suo festival di teatro certo con alcuni adattamenti legati al periodo per esempio lavora molto sul teatro di strada per fare le feste di piazza lavora molto sulla comedia dell'arte e però la prima intuizione è l'uso teatrale della città vuol dire che tutto quello che si faceva e si è cominciato a fare nei suoi carnevali era tutto giocato sull'impronta del teatro ogni mossa ogni passo era teatro ogni ballo in piazza nei palazzi nelle case era teatralizzato questa è la grande forza perché dà al carnevale lo spessore culturale che la distingue dalla sagra di paese e il secondo poi mi chiudo mi taccio perché non voglio tediarvi a lungo il secondo elemento di grande successo al di là delle scelte che lui ha fatto è stato quello che lì per costruire questo progetto non l'ha portato qui da roma che alla sua città è calato dall'alto ha cominciato a costruirlo qui tanta gente qui c'è massimo grandese chi che lo sa come successe quella volta scaparlo mi viene in mente di dire un anno prima non vorrei sbagliare forse anche di più comincio a portare queste idee non ancora progetto e cosa fa coinvolge tutte quelle persone che ho detto prima le i teatri veneziani i teatranti veneziani le compagnie teatrali le associazioni culturali singoli artisti tutta la città in qualche modo per renderla partecipe di un progetto per creare attorno a questo suo progetto un consenso che diventò formidabile credo che nessun'altra impresa né culturale né artistica né spettacolare degli anni dopo abbia avuto il consenso popolare che aveva scappato ma perché se l'era costruito non gli era venuto così o perché piacesse perché era bravo l'aveva costruito dal basso dal piccolo oltre a tutto riuscendo a fare un'altra cosa in una città litigiosa brontolona siamo sempre uno contro l'altro io sono più bravo di lui non lì più bravo di me lui era riuscito a far questo senza rinunciare i grandi nomi internazionali che ci volevano e come ci volevano per fare un grande carnevale internazionale una città internazionale non potevi rinunciare i grandi nomi ma non potevi umiliare le forze vive che ancora ce n'erano di più di oggi che c'erano allora dicevo prima scherzando prima da dario foe al teatro del go c'erano tutti questi elementi certo ognuno nel suo ruolo ognuno nel suo posto non confusi ma ciascuno anche le strutture più piccole non me ne voglia il teatro del go mi piaceva il nome e l'assonanza fogo l'ho detto solo per quello non per non per sminuire il loro lavoro lui era capace di dare a ciascuno il suo ruolo che si sentiva in qualche modo partecipe di questa impresa questo fu secondo me il secondo elemento molto forte che portò a il successo dei suoi carnevali poi erano anche altri anni che dicevamo c'era una voglia di vivere oggi risvegliare questo entusiasmo non voglio affrontare il tema dell'oggi che magari affronteremo nella parte finale mi fermo qui per quello che riguarda l'analisi del passato spero di avervi dato qualche traccia qualche idea qualche provocazione qualche stupidaggine anche e visto che ho parlato di biennale darei subito la parola al rappresentante della biennale perché paolo lughi perché vi ricordo no no perché la biennale giustamente ha celebrato ripeto con questa mostra bellissima che a giustiniana ha celebrato gli anni del carnevali scapparo volevo chiedergli a paolo prima poi puoi dire quello che vuole ci mancherebbe una aperta e aperta il dibattito le parole volevo chiedergli come mai ancora potente nel ricordo della biennale di questo ente internazionale istituzionale il ricordo di scapparo ancora molto potente paolo e beh senz'altro e noi oltretutto l'abbiamo ricordato più volte il suo lavoro in questo in questi anni abbiamo celebrato quest'anno con questa mostra aperta che a giustiniana ma anche già nel 2010 e infatti lo dicevo qui appunto nel testo che avevo preparato nel 2010 abbiamo organizzato una mostra anche ricordando il teatro del mondo ormeggiato davanti alla punta della dogana era venuto il presidente portoghesi ma oltretutto appunto scapparlo è stato chiamato dalla biennale anche nel 2006 a metà anni 2000 in un altro contesto non quello appunto evocato da da roberto in cui di nuovo il carnevale sembrava un po in crisi e scapparlo è stato chiamato proprio per arrivati per rivitalizzarlo quindi è il mito è scapparlo però è nato in quegli anni e quindi io qui volevo leggere questo testo abbiamo preparato e io vi ringrazio per essere venuti così numerosi anche vi porto il saluto del presidente roberto cicutto allora inizio con una con una citazione in un'intervista di qualche anno fa a chi gli chiedeva quale grandissimo autore avesse conosciuto personalmente maurizio scapparlo rispose quando ero direttore della biennale teatro a venezia mi dissero è arrivata margherita jursenar era arrivata con la sua amica in un alberghetto e andai a salutarla per me era come incontrare un monumento ma appena la vidi lei per prima cosa mi chiese del nostro carnevale si tratta questo solo di un aneddoto che rivela però tantissimo dell'importanza della fama internazionale che ebbero subito i carnivali i carnevali della biennale ideati e realizzati a venezia da maurizio scapparlo la biennale è fiera di aver dato modo al maestro scapparlo di cui quest'anno tutti festeggiamo i 90 anni di organizzare come direttore artistico del settore teatro i carnivali degli anni 80 che hanno segnato come ha ricordato di recente il presidente della biennale roberto cicutto una vera svolta culturale di libertà nella società italiana dell'epoca la biennale fiera altresì di aver dato nello scorso decennio un'ulteriore occasione al maestro scapparlo di esprimere la sua creatività con una nuova edizione di un suo carnevale nel 2006 dedicato alla cina nel secondo quadriennio di direzione artistica del settore svolta da lui fino al 2009 inoltre successivamente per due volte la biennale come dicevo organizzato delle mostre con materiali del suo archivio storico nella sede istituzionale di ca giustinian per celebrare i carnevali degli anni 80 rimasti leggendari ma che appunto è giusto continuare a ricordare a studiare a capire come viene fatto qui stasera una prima mostra fu allestita come dicevo nel 2010 a ca giustinian appena restaurata quindi una delle primissime dell'archivio storico avendo per tema il teatro del mondo di aldorossi e la seconda volta riguarda la mostra in corso in questi giorni ricordata già da roberto il carnevale squarcia la nebbia sui fatidici tre anni 80 81 82 e sull'edizione del 2006 appena ricordata dedicata alla cina dunque allora ecco tu mi chiedevi perché appunto scapparlo ancora vivo ed è rimasto sempre appunto attivo nella 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 vita della biennale perché sicuramente al centro della sua ricerca c'è il suo essere utopista e l'utopia della comunità che diventa teatro è stata senz'altro al centro dei suoi carnevali veneziani l'idea nacque pare da un convegno sulla confusione dei linguaggi sulla mescolanza post moderna di cultura alta e cultura bassa popolare secondo un dibattito tipico dell'epoca in cui si parlava alla fine del negli anni settanta della fine della storia e delle storie e del citazionismo ironico e acronico di tutto ciò che era stato il passato in generale cioè il passato era archiviato infatti la presenza del passato appunto si intitolava la prima mostra di architettura di paolo portoghesi per la biennale la prima materializzazione di questa voluta confusione dei linguaggi ai carnevali di scaparro fu a cavallo fra 79 80 appunto il teatro del mondo di aldorossi nave piena di attori e di travestimenti visione metafisica quasi felliniana ormeggiata alla punta della dogana e che poi viaggiò fino a dobrovnik nel cui porto entrò fantasmatico come una citazione omerica ma forse anche come simbolo dell'illusione teatrale di scaparro che spesso vive di un respiro mediterraneo a quel primo carnevale di scaparro per la biennale nel febbraio del 1980 a venezia arrivarono a sorpresa in 200.000 fra le calli con l'incanto di marcel marsò e la gigantesca ragnatela di acrilico di donato sartori sulle teste della folla di piazza san marco ci sono le foto in mostra a giustiniani questa installazione incredibile installazione performance incredibile simbolo ironico e straordinario di un rinnovato legame tra le persone della nascita di una nuova comunità festosa di quel carnevale si parlò fin sulle pagine di le monde le due edizioni successive il carnevale della ragione e la napoli dei mille pulcinella consagrarono il poco il popolo in maschera come fosse una narrazione danzante ma per valutare appieno l'importanza dei carnevali di scaparro e collocarli opportunamente nella storia sociale e culturale italiana e della città di venezia occorre ricordare anche la situazione nazionale di quell'epoca come aveva come anticipato adesso anche roberto cioè nel periodo del cosiddetto riflusso in italia il periodo del riflusso viene datato tra il 1978 e il 1982 appunto quando c'era il terrorismo insomma che era era particolarmente era particolarmente feroce e quando però un po alla volta venne meno il pesante clima ideologico degli anni di piombo che aveva portato un vertiginoso accrescimento della tensione sociale politica e al collasso dell'economia i primi segnali di un ritorno a una visione più positiva del futuro si videro tra la fine del 78 e l'inizio del 79 con il rilancio dei consumi durante le feste natalizie ma sul piano culturale la svolta del riflusso con un diffuso ritorno alla socialità nelle piazze disgiunta dalla politica viene spesso identificata anche con la nascita proprio del carnevale di venezia nel 1980 per opera di maurizio scaparro e della biennale che contribuì ad aumentare il senso di ottimismo di curiosità culturale di dialogo pacifico su comuni interessi soprattutto fra i giovani sicuramente il primo carnevale di scaparro diede un impulso decisivo in quel quadriennio della biennale anche a un rilancio più moderno e democratico non elitario senza rinunciare per questo alla sperimentazione di tutti i settori artistici anche dell'istituzione veneziana della biennale dallo spettacolo dal vivo all'arte all'architettura fino alla mostra del cinema che proprio in quel periodo iniziò a trovare la linfa per recuperare il terreno perduto su canna tutto questo sicuramente grazie anche all'utopia del teatro del mondo di scaparro e del suo carico di comici grazie grazie a paolo lughi e alla voce della biennale che è sempre stata ed è una voce molto importante in questa città personalmente rimpiango che non sia la biennale a fare più il carnevale devo essere onesto e non risposti di nuovo il suo festival di teatro a febbraio magari faremo una petizione popolare per chiederglielo ma volevo tornare sull'uso teatrale della città che faceva scaparro scaparro aveva inventato uno slogan teatri aperti giorno e notte che oggi pensarlo oggi sarebbe impensabile poi non era realmente tutto così però c'erano gli spettacoli a mezzogiorno come c'erano a mezzanotte e spesso quello di mezzanotte veniva replicato alle due della mattina anche questo sembra impossibile ma tutti c'era venivano usati tutti i teatri grandi a picco della città erano tutti in piena attività e dove non c'erano teatri perché non erano comunque moltissimi si faceva teatro in tutti gli spazi possibili immaginabili dai musei alle chiese consacrate sconsacrate ai palasporti alle case private e agli spazi esterni cagli campielli c'era un teatro dappertutto questa era anche una cosa per cui tutto entrava in dimensione teatrale vorrei chiedere a gianni de luigi gianni de luigi dico per chi non sapesse per chi come diranno magari non lo conosce non lo sa gianni de luigi era il nostro laul bova degli anni settanta perché lui io lo prendo in giro scherzo perché lui esordì con un grande successo e in uno in uno sceneggiato televisivo e poi in una serie come attore poi lo prende la maglia del teatro la magia del teatro lo prende e si mette dall'altra parte a fare il regista e intraprende questa brillante carriera di regista che che tuttora lo vedi a guidare la scuola della comedia dell'arte a padova e volevo chiedere a gianni prima di sentire la sua testimonianza tu che hai vissuto al fianco di scaparro per cui ha affiancato scaparro nella partenza nella resurrezione del carnevale qual era il clima umano sociale civile che vivevi in quegli anni che si vive in quegli anni in città è difficile più che fare una regia no adesso si sente poi qua tutti ci sono paragoni di massimo grandese che mi diceva silvio orlando che gli raccontava che io ero l'elmut berger del canal grande in realtà come vedete non lo sono più ma quello che è importante è che io venivo dalla scuola di giorgio streller e quindi è del piccolo teatro e quindi il teatro era rimasto dentro di me purtroppo come succede la televisione è arrivata e come succede e purtroppo ancora abbiamo usato molto purtroppo ma come succede a media set si finisce per fare i tele tele romanzi che non finiva più era il primo tele romanzo di dieci puntate per cui una cosa per allora insopportabile allora perché il teatro poi dopo ve lo racconto perché l'incontro con maurizio come vi farò vedere comincia nel 73 quando c'era come direttore della biennale un grandissimo che si chiama luca ronconi e io feci due interventi allora era presidente ripa di meana feci due interventi che lui volle perché allora in spagna si usava ancora la garrota e furono uccisi dei contestatori di franco ma secondo me forse è il caso che parli la nostra testa vuoi dopo che siamo lunghi meglio che tu intervenga sono arrivata in ritardo perché ho un messaggio del maestro scaparro vorrei leggervelo prima però vorrei leggervi un mio pensiero che gli ho dedicato quando ha regalato tutta la sua documentazione alla fondazione cini ho sentito purtroppo perso un pezzo della della relazione di paolo ma ho sentito parlare di utopia e maurizio scaparro l'utopia è un tema che corre lungo tutta la sua vita qualche tempo fa qualche anno fa in realtà il maestro mi chiese se fosse applicabile alla sua figura la qualifica di utopista pragmatico apparentemente uno simoro gli proposi di avere dieci minuti per pensarci ma sono passati anni gli rispondo oggi qui con voi a distanza di una lunga riflessione non c'è alcuna contraddizione nei termini tutti chi più chi meno tendiamo verso utopie pronunciare parole è già un atto visionario poiché con esse si progetta e da esse si genera il futuro scaparro ha capito che l'utopia non va inseguita ma accolta come prospettiva di comportamento propositivo creativo e pragmatico insieme sapendo che si raggiungono solo tappe ma la meta sta nel viaggio nella scelta del modo di viaggiare e nel crederci è una bussola che ci può dare punti di riferimento ideali per ogni nostra esitazione non un ancora per sostare sicuri ma una grande vela per navigare in mare aperto non un traguardo ma il susseguirsi di punti di partenza non la proclamazione di principi assoluti ma la continua ricerca di essi affinché le domande generino altri dubbi invece che spegnersi in certezze apparenti chiudo con una nota citazione della prefazione di alberto savigno alla città del sole di tommaso campanella l'utopia non fa se non rendere concreto e plastico l'anelito antichissimo e diffuso a una vita migliore a questo proposito di vita migliore il maestro mi ha dato un'ora fa un messaggio per voi a proposito di utopista pragmatico la situazione che stiamo vivendo è una situazione drammatica e lui è sempre stato molto partecipe ai fatti del mondo lui scrive questa mattina ci siamo svegliati con una consapevolezza diversa vedendo le immagini che arrivano dall'ucraina il mio pensiero è rivolto a quelle persone che improvvisamente si sono ritrovate in un inferno war krik bellum ger rat karas in lituano sono solo alcune tradizioni di una parola dannata guerra è una parola che dovrebbe essere abolita ma volenti o nolenti ci ritroviamo ancora una volta ad affrontare la piaga peggiore dell'umanità il mondo non può reagire d'impulso né citando madre coraggio voltarsi dall'altra parte in nome di un profitto individuale è il momento dell'unione e di una risposta intelligente che sappia risolvere il conflitto senza l'uso delle armi la via maestra sta sempre nel mezzo la via maestra si chiama pace maurizio scaparro grazie grazie ad adriana vianello chiedo al maestro di prendere la postazione perché vuole farci vedere alcune foto di quando era bambino e assomigliava il mut berger questo intanto è un libro straordinario edito dalla biennale che non so se la biennale ha nel suo archivio che potrebbe rivederlo ecco ma a casa ma non a biennale questo è veramente uno dei libri più esaustivi di tutto il lavoro di maurizio scaparro con due intro tre introduzioni importantissime una è di moraglia l'altra è di zanzotto e l'altra ancora di goffredo parise per il carnevale io devo dire come avevo già accennato che scaparro maurizio lo incontro dal nel 73 e continuiamo ad incontrarci durante gli spettacoli di luca ronconi periodo altrettanto straordinario della biennale quando luca ronconi dirigeva il settore teatro ci incontriamo spesso parliamo parliamo di teatro e arriviamo fino al 77 sono periodi anche quelli particolarmente intensi perché nel 77 voi sapete ci sono molte rivolte come diceva roberto ci incontriamo e continuiamo poi nel 79 78 79 ad incontrarci a cenare insieme lui dice mi hanno nominato direttore del settore teatro ma il comune mi propone il carnevale io il carnevale gianni lo detesto ma invece cerchiamo di fare vorticare una specie di spirale per innalzare il teatro nella città del teatro che è venezia continuiamo a parlarne arriva il 79 io ad un certo momento incontro gli es comediantes sono fondamentali perché sono gli epigoni della biennale gli es comediantes erano quelli che inventano praticamente il teatro di strada con eugenio barba portano questo teatro in tutte le città barcellona in primis e io vado a prenderli ripropongo a maurizio maurizio dice subito parliamo di giuliano scabbia altra memoria fondamentale del teatro che bisogna ricordare che diventa anche lui parte del carnevale e questi due punti diventano poi l'esempio del teatro famoso di strada lui dice ma perché non mi proponi tu una cosa io dico sì stavo leggendo il ritorno di casanova di arthur schnitzler e dico sì lo faccio molto volentieri la cosa importante mi dice è che coinvolgiamo le calli campielli scusate vi faccio vedere mi sono dimenticato gli es comediantes questo vedete sono le calli e vedete anche come si muovevano vedete che in un certo senso il popolo continua ad avere queste sollecitazioni solo che vengono disperse e il carnevale in questo momento noi parleremo dopo questo è Dario Fo e Dario Fo diventa un punto di riferimento del carnevale nell'interno ed è il teatro Malibran dove non si riusciva ha dovuto affacciarsi Dario Fo alla finestra del teatro Malibran per dire calma ragazzi perché fuori c'erano altrettanti ragazzi che volevano entrare scusate e qui c'è un altro grande io spero che tutti sappiate chi sono questi personaggi perché sono personaggi fondamentali questo è di Isley Camp che è uno dei mimi straordinari all'inizio la figura che vedavate era quella del grande mimo francese Marcel Marceau allora ritorniamo al ritorno di Casanova che cosa faccio prendo il ponte dei pugni copro il canale di San Barnaba completamente con un telo bianco e Casanova rincontra tutte le sue amanti preferite sul ponte dei pugni aiutato da Arlecchino con un bastone che lo aiuta visto che lui ha perso un po' della sua energia sessuale sotto c'era un'orchestra le sue amanti apparivano da queste barche che sono le caorline dall'acqua c'era un gruppo tedesco che suonava vivaldi con gli ottoni e tutte le maschere si incontravano come vedete le rive erano piene e sotto c'erano tutte le gondole stracolme di pubblico lo vedete qui e questo era un punto nevralgico cioè terra acqua canale ponte proseguendo si arrivava all'interno di palazzo grassi si attraversava il canal grande e si arrivava al palazzo grassi dove Casanova incontrava don giovanni di mozart non il don giovanni spagnolo il don giovanni di mozart che è un don giovanni tedesco o veneziano lo interpretavo io per cui era veneziano questo spettacolo coinvolge l'interno e l'esterno che era l'argomento base per maurizio scaparlo cioè riuscire a dialogare e a interagire tra interno ed esterno devo dire che io continuo a fare i carnevali testardamente cercando di sentire una risposta culturale della città ma non c'è non c'è perché manca il tema che maurizio aveva messo chiaramente manca il senso della cultura del teatro cioè non purtroppo non ho messo perché pensavo ci fosse la professoressa professoressa bigi che faceva vedere il nucleo dell'interno del teatro del mondo perché è un'iniziativa straordinaria poi andò fino a capodistria cioè attraversò e diventò una nave una nave della follia del teatro questo secondo me teatro del mondo che esiste ancora ed è a Marghera è un omicidio culturale lasciarlo lì nell'ottanta e nell'ottantuno io invento quello che verrà chiamato da il professore mario baratto giuseppe mazzarrioli è il rettore feliciano benvenuti il mestiere dell'attore nel teatro cinema e televisione la televisione che citava prima roberto bianchi gli studenti arrivano in massa è un ricordo del teatro di cafoscari che non è il teatro della bucaria giovanni poli poi vuole fare teatro della bucaria ma allora il teatro di cafoscari era un punto di riferimento teatrale universitario ma che vinse il premio delle nazioni a parigi con egli zanni quindi è un percorso completamente parallelo alla città stessa nel mestiere dell'attore cinema teatro televisione maurizio dice benissimo ranni tu stai nell'università io vengo e faccio delle lezioni al teatro di santa marta e portiamo il pubblico a riconoscere l'idea del per esempio i temi che voglio sviluppare il primo tema era il carnevale della ragione e dopo fu napoli a venezia dopo napoli a venezia gli studenti di napoli di venezia si incontrano al teatro di santa marta e riusciamo anche a fare una piccola performance il mestiere dell'attore continua anche dopo che maurizio scaparro lascia la direzione del teatro alla biennale e allora continuando sullo tentando in tutte le maniere di mantenere lo spirito l'anima di maurizio che è completamente persa che era quella di dare forza contenuto sostanza e pensiero quindi facciamo exodus i mori a venezia tra campo dei mori e madonna dell'orto uno spettacolo dove ottello di verdi incontra chere de brest lisangene per insistere nel tema poi nell'ottantacinque apocalipsis urbis e torbis e lo facciamo alla giudecca ai cantieri navali dove luca ronconi aveva creato utopia e altri si parlava prima di utopia a me sembra che viviamo una distopia il carnevale della giudecca poi io continuo perché mi trasferisco la giudecca e facciamo un carnevale di tutti i cittadini della giudecca volendo entrare dentro il mulino stucchi che allora non era l'ilton hotel era completamente abbandonato e ho illuminato tutta la riva della giudecca dalle zittelle al mulino stucchi e tutti i cittadini della giudecca con le loro torce inneggiavano al carnevale della giudecca e poi fece anche un carnevale dei bambini della giudecca finiva alla remiera della giudecca isola la più densamente abitata tuttora della città dopo apocalipsis e la giudecca arriva di nuovo maurizio e mi dispiace che nessuno si ricorda nel 1995 maurizio ha un'idea secondo me fondamentale e la intitola ve lo faccio vedere questo è castelforte che ho fatto i fantasmi della comedia dell'arte nell'ottantatré no anna cavagnaro e mia moglie questo è l'hotello questo è il crel du best che era un hotello nero e questo è cinema e teatro cioè eri tu la responsabile stampa no ed è stato un successo in realtà perché avevamo la fenice piazza san marco abbiamo di nuovo richiamato gli es comediantes che adesso vediamo se riesco a ritrovare nella che in fondo fanno il fuoco i geni del fuoco scoprono il cinema e lì prendiamo tutta piazza san marco che di nuovo grazie anche a maurizio si riempie ma non è solo questo facciamo un convegno la cini su roland bart importantissimo rispetto al carnevale ma non vi dico abbiamo fatto alla fenice abbiamo proiettato i quattro cavalieri dell'epocalisse di rodolfo valentino le opere nel cinema per la prima volta alla fenice ci concedono di proiettare il cinema questo momento il 1995 mi dispiace non è ricordato alla biennale non è in questa mostra non c'è c'era una mostra di totò al malibran abbiamo aperto per la prima volta il malibran che era rimasto chiuso quanti anni roberto tu sei meno trent'anni l'abbiamo aperto era completamente cadente arrivato il direttore di allora della biennale che era patrice ro e fece dopo uno spettacolo questo per dire quanto importante è maurizio per me ma anche per la memoria della città riusciamo a fare questo ma non solo perché poi portiamo il berlin ensemble cioè portiamo le ultime memorie di un grande teatro torna dario fo e riusciamo finalmente a muovere maurizio era molto seccato in quanto non ci avevano dato i mezzi mezzi economici per continuare per fare arrivare altri di grande valore volevamo di nuovo gli sly camp volevamo tante cose dico plurale perché continuavamo sempre a parlare maurizio è un grande affabulatore devo dire lo ascoltavo molto l'ultima cosa che voglio farvi vedere questo è quando abbiamo presentato a parigi all'istituto di cultura di parigi il cinema e teatro i francesi impazzirono e poi volevano che lo rifacessimo ma maurizio non ha voluto questo è il messaggio della pace del leone questo sono io che rifiuto di lavorare con maurizio perché volevano affiancarci cecconi e lauda dio e siccome io ho un brutto carattere ho detto di no questa invece era l'immagine del carnevale che con roberto e e un albergatore raramente troviamo albergatori illuminati samueli c'è anche tu lì sì che c'eri io insistevo e roberto era un supporter di quella qualità che conoscete che si facesse un carnevale della pace è stato bocciato perché la pace così diceva l'allora sessore peres non interessa nessuno se fate la guerra vengono tutti tanto che roberto diceva mia guerra a porto dov'è che avevi detto cos'è che volevi portare la guerra aveva un gruppo di guerrieri armati ve lo ricordate io non mi ricordo il nome comunque la pace è qualcosa che oggi forse che avete questo senso della guerra visivo è qualcosa che di solito non dà la stessa forza dei fuochi d'artificio e delle bombe infatti a Massimo Cacciari dicevo basta far sentire i colpi dei fuochi d'artificio facciamo sentire Beethoven che ha fatto un'opera finisco dicendo e ricordando una persona che ha inventato la vera trasgressione del carnevale in questo caso anche la pace oggi sarebbe trasgressiva ed è Fiorella Mancini Fiorella Mancini è stata la persona più energica una vera persona di idee e ha inventato lei poi dopo l'hanno copiata la pantegana con i fuochi d'artificio fu proprio Fiorella Fiorella Mancini aveva una sua diciamo una sua galleria di opere sue ma soprattutto di abiti di grande invenzione è una provocazione anche contro tutti i maschi grazie maestro De Luigi per questa testimonianza brillante è sempre piena di cose nuove ogni volta che parla racconta delle cose che non sapevo per cui le tiri fuori da qualche anfratto della memoria che ogni tanto riaffiorano avrebbe dovuto essere con noi anche la professoressa Maria Ida Biggi che tu hai citato prima che è docente di teatro a Ca' Foscari una storica del teatro e direttore dell'istituto per il teatro e il melodramma della Fondazione Cini e che ci avrebbe raccontato dell'archivio che Maurizio Scaparro lo scorso anno ha donato alla Fondazione Cini e che la Fondazione Cini sta lavorando adesso lo sta esaminando perché è pieno di cose non solo di ricordi ma è pieno anche di progetti, di idee eccetera e ancora non è stato analizzato del tutto perché credo che da lì una mezza promessa mi ha fatto la direttrice verranno fuori delle cose nuove che potranno portare anche a rileggere alcune cose anche di Staparo anche magari nei progetti non realizzati come accennavi tu alcune volte per cui non finiremo ancora di parlarlo ma senza nostalgia dal mio punto di vista credo che è bello il ricordo e il riconoscimento la nostalgia è difficile, è una brutta malattia anche perché, ma è una mia opinione personale credo che quello che è successo in quegli anni oggi non sarebbe replicabile salvo che alcune idee di fondo cioè del coinvolgimento della città ma quello che ha fatto fu fatto in quel tempo perché era figlio di quel tempo ed era figlio anche di una serie di situazioni che oggi non ci sono più la città era anche diversa non solo perché c'erano più abitanti perché c'era anche una voglia, c'era un entusiasmo quindi dal mio punto di vista poi magari andremo anche più avanti a parlare anche dell'oggi cosa posso fare oggi ecco allora alcuni stilemi di Scaparro dicevo prima se la Biennale rimettesse il suo festival di teatro non è una provocazione lo rimettesse a Carnevale magari allora comincia a girare, comincia a svoltare in qualche modo ma quello che fu fatto è bello che lo ricordi volentieri proprio perché era irripetibile ma io adesso voglio fare un salto velocissimo di 40 anni passando dalla testimonianza bellissima di Gianni De Luigi a quello che succede anche oggi e passando ad un regista che è Mattia Berto che è un regista più giovane di un'altra generazione che fa teatro e attore del regista fa teatro in questa città e ha una sua vocazione che ricorda molto un certo modo di lavorare che è stato richiamato ovvero sia il rapporto non dico col pubblico con la gente con le persone Mattia ama molto la gente e si capisce da come lavora e la coinvolge nel suo lavoro nei suoi spettacoli è un lavoro spesso improbolo spesso faticoso spesso non facile spesso pieno di difficoltà ma pieno secondo me di germi interessanti lui lo chiama teatro di cittadinanza vorrei che tanto ci spiegassi poi di quello che vuoi rispetto alle sensazioni che ti sono venute fuori da quello che abbiamo detto noi ma mi piacerebbe che tu partissi spiegando il tuo teatro di cittadinanza che cos'è cosa vuol dire come lo fai e che difficoltà incontri grazie buonasera allora grazie io sono molto felice e onorato di questo invito nel senso che mi sento un po' in famiglia perché prima di incontrare Maurizio Scaparro ho incontrato il maestro De Luigi quindi sono stato un suo attore e quindi mi trovo un po' in famiglia perché Anna, Roberta insomma per me sono famiglia quindi sono emozionato perché poi si parla di un altro incontro importante della mia vita perché ho incontrato Maurizio Scaparro dopo di voi nel senso che proprio per età anagrafica l'ho incontrato dopo però è stato un incontro folgorante nel senso che ho incontrato Scaparro alla Biennale mi scelte come attore all'epoca e di Scaparro potrei raccontare un sacco di aneddoti personali molto divertenti perché il maestro Scaparro è un uomo pieno di ironia l'Adriana lo sa bene con Scaparro si ride sempre con Scaparro c'è sempre questa incredibile capacità della relazione è incredibile come sappia gestire l'umanità tutta non l'ho mai visto arrabbiarsi non l'ho mai visto scortese l'ho sempre visto inondato di una signorilità rara e quest'arte proprio della relazione dei rapporti della cura delle persone del teatro degli incontri è stato sicuramente un seme per me per aprire questa riflessione del teatro di cittadinanza nel senso che il teatro di cittadinanza diciamo che una cosa interessante è che a un certo punto Scaparro mi disse disse a me e a Savino Liuzzi che era un mio compagno attore ci disse ragazzi io a una certa età vorrei avere seppur con una vitalità incredibile di dire lavoro 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 lo dimostra la lettera che ci ha mandato prima ci disse vorrei riuscire ad avere un teatro a Venezia un teatro a Parigi e un teatro a Roma le mie città e se ne troviamo uno a Venezia questo teatro ve lo faccio ve lo faccio gestire a voi lo curate voi alla mia maniera con la mia visione ma ve ne occupate voi perché queste erano le città che lui aveva più vissuto e amato e mi ricordo delle riunioni pazzesche perché mi dava degli appuntamenti mi diceva Mattia facciamo una riunione dove ci troviamo e dicevo boh maestro non lo so ci troviamo in treno e quindi facevamo delle riunioni nella tratta Venezia a Mestre a Mestre io scendevo e lui proseguiva per Roma questo per dirvi l'incredibile vulcano che è quest'uomo e proprio questa cosa dell'idea di prendersi cura di uno spazio quindi prendersi cura di un tassello della città forse per me è stato un input un motore una scossa ecco e infatti io per tanti anni Massimo Grandese lo sa bene perché l'abbiamo condiviso anche in parte questo viaggio mi sono occupato di un piccolo teatro della città che è il Teatrino Groggia perché proprio stimolato da quest'idea del maestro di fare un lavoro sui luoghi di fare un lavoro sulla città di prendermi cura di spazi di idee di cittadinanza cominciai questa avventura con un'idea tra l'altro di democrazia partecipata nel senso che molti ragazzi come me potevano dire mi piacerebbe avere un teatro io facevo l'attore ero giovane lo sono ancora abbastanza e quindi dissi come possiamo fare questa cosa coinvolgendo la cittadinanza e mi ricordo che la prima riunione che abbiamo fatto l'abbiamo fatta dalle suori di Sant'Alvise che ci dede l'ospitalità abbiamo fatto un comitato cittadino e da lì abbiamo cominciato con questo comitato per Villa Grogia ed è partito un processo di rigenerazione culturale e artistica di uno spazio che doveva diventare casa per la cittadinanza e così è stato per dieci anni oggi il Grogia non me ne occupo più direttamente ma è un luogo vitale della città che continua insomma a nutrire gli spettatori ma da lì poi io ho detto non mi sono accontentato e si vede che sono stato preso da un delirio un po' anch'io di innipotenza e ho detto no adesso voglio andare in tutti i luoghi della città e da lì è cominciato il progetto del teatro di cittadinanza che prima è stato teatro in bottega per cui per un anno ho abitato le botteghe storiche della città con delle performance create ad hoc nei negozi dalla parrucchiera alle pompe funebri dalle pompe funebri al negozio di abbigliamento lavorando sulle botteghe storiche su un'emergenza diversa perché giustamente come dicevate voi la città è cambiata è mutata e continuerà a mutare però per dare una risposta anche a quella resilienza di abitanti di persone che ancora in un luogo vogliono vivere e vogliono stare e qui metto dentro la città tutta perché ho fatto degli interventi anche su Mestre nel senso che ho fatto casa per tanti anni al teatro Momo e anche lì abbiamo cercato di andare nella città mi ricordo qui in via Piave con la Giorgia Chinellato una fotografa con la quale ho condivido il progetto di teatro in bottega abbiamo cercato di portare i cittadini performer attori all'interno dei negozi anche di Mestre e da lì poi il teatro in bottega e poi il teatro di cittadinanza che in questi ultimi anni sta cercando di mappare la città sta abitando i luoghi della città sono stato nelle carceri sono stato nelle cadi private dei veneziani sono stato negli hotel con un progetto sulle mille una notte chiedendo ai veneziani di essere scerasad e di raccontare la loro ultima storia per salvarsi la vita quindi anche nell'ottica di creare un dialogo tra chi la città la vive quotidianamente noi cittadini che la viviamo e chi la vive invece di passaggio i turisti senza paura ma con la voglia proprio di sperimentare e di condividere ho provato anch'io a parlare di utopia l'anno scorso abbiamo fatto un progetto che si chiamava Utopi e un po' come dei topolini ho fatto una caccia al tesoro perché non si potrebbe incontrare il pubblico e quindi mandavo in quel tempo in quell'asso di tempo che avevamo per girare per la città mascherati mandavo a cercare semi di utopia che i performer cittadini nascondevano in giro per la città ecco sto lavorando attivamente anche adesso perché sto vivendo a pieno questa idea di teatro di cittadinanza che sto anche esportando perché abbiamo fatto da poco un'esperienza di teatro di cittadinanza a Treviso e un'esperienza di teatro di cittadinanza a Vicenza in corso e sto lavorando sugli spazi verdi della città perché comunque l'idea è quella di creare una comunità che attraverso il teatro si interroga non mi interessano gli attori mi interessano le persone le persone che hanno voglia di mettersi in gioco ho 46 performer cittadini che stanno lavorando con me al teatro Goldoni il teatro principale della città e stiamo provando a continuare ce n'è qualcuno anche qui li saluto li ringrazio per essere qui stiamo continuando a cercare di tessere fili fili di relazioni un po' come stiamo facendo oggi noi interrogandoci chiedendoci qual è il futuro del teatro qual è il futuro della nostra città e quindi il teatro di cittadinanza è tutto questo una folle pazza voglia di vivere divertirmi condividere insieme a tutti quelli che hanno voglia di farlo con me grazie grazie Mattia Berto che ci ha portato anche nell'oggi abbiamo parlato tanto diciamo del passato di quello che è successo 40 anni fa abbiamo parlato poco del presente salvo l'intervento di Mattia adesso anche perché questo presente resta sempre nel tema del carnevale del teatro diciamo è meno sfolgorante di quello di 40 anni fa e sono molto generoso con questa affermazione perché ve lo dicevo il punto non è la mancanza di persone Mattia Berto fa benissimo il suo lavoro ha ricordato ci sono molti ragazzi che lo fanno ci sono realtà ancora vive in una città che pure si sta riducendo dico solo due nomi dai Pantachina alla Vogaria esistono ancora e fanno ancora delle cose molto belle c'è ancora un substrato sia pure sempre più ridotto quello che manca è la testa è la visione unitaria è la mancanza dell'idea del carnevale è la mancanza dell'idea del teatro perché ogni carnevale del mondo ha una sua chiave a Rio c'è il carnevale con la sfilata delle scuole di samba a Nizza la guerra di fiori ad Asti la battaglia delle arance a Viareggio il carnevale dei carri Venezia si era differenziata perché faceva non il carnevale non un carnevale ma faceva il carnevale del teatro era una città teatro lo è già una città teatro è un fondale naturale non devo spiegarvelo io ha perso l'idea che l'unico carnevale possibile compatibile tanto più oggi con i numeri dell'afflusso turistico l'unica via percorribile è il carnevale del teatro detto questo certe condizioni sono difficili oggi da replicare rispetto ai tempi di scappare volevo chiedere a Luca Colferai nella sua qualità di gran priore della compagnia della calza la compagnia della calza nasceva insieme ad altre persone tu hai ricordato Fiorella Mancini per forma straordinaria che nasceva anarchica da sola voglio dire non appoggiata e non sostenuta anzi spesso ostaggiata eppure con la sua forza con la forza delle sue idee era riuscita a portare delle cose importanti nella città oggi sarebbe impensabile credo che un gruppo come il tuo che è formato da 25 famiglie venetiane vorrei che poi ce lo ricordassi perché è un bellissimo passaggio di ogni estrazione oggi sarebbe difficile che nascesse attorno a quell'entudiasmo che c'era 40 anni fa o no? Cioè io mi ero preparato sul passato ti fai domande sul presente non go studiare tanto il presente ma comunque che dire dunque no parliamo un po' della storia perché come come si sa la storia ci insegna a capire anche il nostro presente contemporaneo ma io farei una piccola storia intimistica ecco della compagnia di calza gli antichi anche per spiegare far capire che cos'è esattamente questo gruppo di pazzi scalmanati 25 famiglie veneziane di varia e variegata stratificazione sociale culturale economica tutti legati dal desiderio di divertirsi divertendo e da un incontenibile narcisistica voglia di apparire di fare di esistere di combattere la realtà con la fantasia dunque nel 1979 come abbiamo detto i veneziani ricominciano a impadronirsi del carnevale io nel 1979 incredibilmente avevo 17 anni e facevo parte di quella schiera di ragazzini adolescenti post-puberali e ormonizzati tantissimo di suo proprio naturalmente che si lanciavano la farina e le uova e lo facevano con una gioia sterminata di irriverente trasgressione e ogni tanto qualche vecchia invisonata veniva colpita qualche nobile veneziana scatenando appunto le ire dei vigili e di tutto il resto ma comunque non è di questo che volevo parlarvi ma di come nacque la compagnia di calza gli antichi nasce da un gruppo di amici soprattutto di san marco e di campo san maurizio ma sono due i responsabili di questa cosa e sono l'avvocato antiquario paolo emanuele zancopè detto zanecope e l'avvocato edoardo andreotti loria detto dodo questi due signori veneziani che all'epoca sono giovani hanno 40 anni una cosa quasi irrilevante insomma hanno dietro di sé un lungo passato che mi tocca spiegarvi brevemente perché ne vale la pena paolo emanuele zancopè dopo nel dopoguerra appena presa la maturità classica ai cavanis con il più basso punteggio immaginabile si trasferisce in brasile dove diventa avvocato si trasferisce in brasile perché il suo papà che era gruppier al casino è andato a vivere in brasile terra di donne bellissime e grandi opportunità per gli italiani in quell'epoca e lì paolo emanuele zancopè fa il pr delle discoteche che a quell'epoca ancora non esistevano non solo come zaia come zaia insomma come zaia come zaia ma molto meglio perché le discoteche le ragazze brasiliane sono molto più belle io ho visto delle foto e vi assicuro che è proprio lì che uno capisce il significato della parola rimpianto cioè non aver vissuto quegli anni è per me uno dei più grandi rimpianti della mia vita comunque lui fa una bellissima vita con un saveiro che è un vegliero percorre tutta la costa brasiliana da Rio de Janeiro a San Paolo da San Paolo a Rio de Janeiro fa una vita bellissima di come dire vitellone veneziano in Brasile fa l'avvocato per finta si dedica a promuovere le feste nelle discoteche fino a che scoppia la dittatura militare e paolo emanuele zancopè io non lo so perché diventa un rivoluzionario va nella foresta nella mata atlantica e si dedica ad azioni di terrorismo violenza contro il regime militare fascista paternalista razzista brasiliano dei generali brasiliani e lì durante tutta questa sua guerra che fa vi racconto a me piace ma penso che anche a voi piace sentire queste storie un giorno arriva il teatro di Ca' Foscari il teatro di Ca' Foscari di cui faceva parte Andreotti Loria Edoardo detto Dodo che a quell'epoca era giovane faceva l'università gli piaceva recitare tantissimo i due si conoscono ed è bello perché sono due personaggi anche antagonisti perché poi a quell'epoca ora noi ci siamo dimenticati qual è la destra e qual è la sinistra ma a quell'epoca il Dodo era e penso sia ancora è ancora in vita è un vigorosissimo signore di 88 anni quanti ne ha era ed è ancora di destra piuttosto abbastanza consistentemente di destra e lui non sa trova Paolo Emanuele Zancopè in pieno del Brasile non sa che Paolo sta facendo il rivoluzionario e Paolo gli dice mi fai un favore avrei delle casse di costumi di ananas di cose che devo mandare da un mio cugino che sta da un'altra parte e me le porti con il così sai evito della dogane dei controlli la finanza tutte queste robe se le metto nel camion in mezzo ai bagagli del teatro di Ca' Foscari che stavano facendo una tournée in Brasile mi fai un grande favore e Dodo gli dice certo Paolo come no e gli porta queste casse a destinazione senza incorrere in perquisizioni e cose varie in quelle casse c'erano le armi del movimento MR8 movimento rivoluzionario 8 ottobre dedicato a Che Guevara che servivano alle attività guerrigliere di Zancopè il quale viene poi catturato torturato e stradato torna in Italia negli anni 70 nei primi anni 70 e si mette a fare l'antiquario in campo San Maurizio e lì rinasce il carnevale l'ho fatta lunghissima ma era necessaria e una sera Dodo Andreotti Loria a casa di Paolo Emanuele Zancopè in campo San Maurizio in calle del Doge in calle del Forno dove ancora c'è la nostra sede storica gli dice Paolo facciamo qualcosa di intelligente ti che ti sei un organizzatore di masse sei un condottiero provato sul campo facciamo una cosa creiamo un gruppo di carnevale di persone che agisca nell'interno della città e gli dice facciamo e questa è l'idea geniale facciamo una compagnia della calza che cosa sono le compagnie della calza e questo è la cosa noi non siamo degli attori non siamo dei professionisti del teatro molti di noi lo sono altri lo sono stati ma insomma le compagnie della calza sono un fenomeno tipicamente esclusivamente veneziano rinascimentale erano dei gruppi di nobili che si riunivano durante il carnevale per fare delle feste di carnevale private e molto spesso anche pubbliche si distinguevano una compagnia dall'altra per i colori della calza per questo si chiamano della calza e la serenissima repubblica li usava anche per l'organizzazione di feste pubbliche facevano delle gare d'appalto e affidavano la realizzazione alla compagnia che avesse presentato il progetto più adeguato dal punto di vista scenografico attoriale tutto quello che volete manca soprattutto dei schei perché fine qui os è sempre molte volte queste cose venivano autofinanziali dai membri della compagnia la compagnia della calza così nasce dalla mente di due persone molto diverse l'una dall'altra ma accomunate dall'amicizia fraterna che la amicizia fraterna sorvola su qualsiasi condizione politica o ideologica o sessuale o altri motivi e messa insieme dall'idea di divertirsi e fare qualcosa per la città dentro la città e quindi la festa pubblica la compagnia della calza fa da quel momento una serie infinita di attività pubblica di feste a tema che cosa fanno i compagni di calza e mettono insieme le loro capacità intellettuali e anche soprattutto fisiche e creano delle feste di cui sono i padroni ma che chi veramente fa la festa è il pubblico cioè la gente normale che è nella piazza e viene stimolata a partecipare e diventare protagonista della festa mettendosi in mostra con i suoi costumi oppure come facciamo da 30 anni recitando le sue poesie erotiche che lo facciamo sabato al teatro alla vogheria e questo è il senso della festa delle feste della compagnia di calza che abbiamo fatto per 40 anni e più a Venezia e nel resto del mondo 25 famiglie dicevamo 25 famiglie di varia estrazione socio-culturale c'era c'è il macellaio c'è la sarta c'è l'avvocato lo spazzino il finanziere il finanziatore c'è l'artista il pittore il mascheraio mi mancano il fabbro avevamo anche un grandissimo recuperatore che svuotava soffitte e magazzini che però prima aveva fatto il collaudatore di auto da corsa insomma un variegato e adesso veniamo alla domanda sul presente e la domanda sul presente è molto angosciante nel senso che da un punto di vista si potrebbe dire e chiuderla là sì le cose ormai vanno malissimo non esiste più una rappresentanza culturale politica della città ma non solo a Venezia in giro per il mondo non esiste più da parte del pubblico l'interesse a partecipare perché tutti sono più che altro dei guardoni che guardano i filmatini su TikTok o su YouTube la gente si mette un po' in maschera ma solo per farsi i selfie e vabbè ce la giochiamo così ma invece in realtà le cose non sono così semplici perché nella nostra esperienza queste 25 famiglie nel corso di questi 40 anni che sono passati alcuni sono andati altri sono in via di estinzioni altri sono estinte purtroppo ma altre sono entrate a far parte della compagnia di calza gli antichi forse non siamo 25 famiglie come lo eravamo negli anni 80 ma siamo 25 gruppi familiari magari anche singoli ormai perché la società è cambiata ma esistiamo ancora e ci sono persone che non più con quella foga degli anni 80 ovviamente ma che entrano continuamente a far parte di questo gruppo per cui non è scontato che il presente sia così brutto io ricordo concludo con questo non parlo più dopo e godo a parlare ancora e concludo anche con una cosa che è molto importante sottolineare nella storiografia comune il carnevale di Venezia viene fatto finire con la caduta della Repubblica nel 1797 questo è verissimo se diciamo che nel 1797 finiscono i carnevali della serenissima Repubblica di Venezia questo è verità inconfutabile incontestabile ma il carnevale di Venezia continua perché per tutto l'Ottocento se voi andate adesso per fortuna che abbiamo internet e si possono vedere tantissime cose che prima erano occluse alla vista degli esseri umani vedete pieno di stampe noi ne abbiamo degli antichi noi ne abbiamo 1849 carnevale in piazza San Marco quadri dipinti resoconti articoli di giornale è vero gli austriaci proibivano di mettersi in maschera giustamente anche come ogni occupazione di repressione il carnevale è la prima roba che viene proibita ma si poteva andare in maschera nei teatri durante gli ultimi giorni di carnevale e qualche volta era concesso anche di fare delle feste in piazza San Marco per cui è vero che il carnevale è finito ma nello spirito dei veneziani questi maledettissimi veneziani questo popolo di gente che nosegnanca veneziani perché la maggior parte dei veneziani non sono nati a Venezia gli aborigeni veneziani non esistono tolti 1200 partecipanti del libro d'oro anche al libro d'argento arrivavano dalle campagne perché a Venezia non c'era nessuno e sono arrivati da fuori quindi grazie grazie grazie